Cesare Salvi, ex parlamentare, giurista, ex ministro del lavoro. Una sua visione è una fotografia della situazione economica e del lavoro adesso in Italia? La situazione è drammatica. Da un lato c'è una disoccupazione giovanile a livello impressionante che va anche oltre alle statistiche perché come si sa i dati statistici considerano occupato anche chi ha lavorato un'ora a settimana e dall'altro anche chi ha un lavoro ha ormai una perdita di reddito e di diritti elevatissimi. Quello che mi colpisce è che questo tema si se ne parla per carità, ma non viene messo al centro dell'attenzione come dovrebbe essere una questione principale, una questione fondamentale. Direi che il mercato al di là delle idee politiche dovrebbe essere per tutti una priorità. Invece viene messo da canto una perdita per la democrazia evidentemente, una democrazia senza lavoro, una democrazia dimensata. Grazie.